Inizia ufficialmente l'incontro Follonica-Gavorrano-Rieti. A vuoto per Ardi, Silla, deviazione, arriva il primo calcio d'angolo. Benalima, Benalima, Laie, altra conclusione. Abbastanza velleitaria perché... Tiro ribattuto, Silla, Silla! Girata, bravissimo, Silla, Coccia, Giustarini, Fontana, Fontana trattenuto da Tiraferri. Evidente la strattonata, ha rischiato un po' il capitano Amaranto Celeste. Eccola la girata di Losicco. Diciamo che negli esterni sono in leggera difficoltà, quindi Follonica-Gavorrano deve lavorare molto sugli esterni. Quindi sia Silla che Giustarini li mettono in difficoltà, soprattutto quando Giustarini viene... Italiano. Coccia, Coccia. Giustarini si gira e non riesce a inquadrare lo specchio della porta. La panchina bianco e c'è una ripartenza a Amaranto Celeste. Tiro, parata di ombra. Pericolosissimo... Palla in aria... Che non riesce... Fischiata una punizione in favore del Follonica-Gavorrano. E Losicco che scodella... Testa di Dierna... Palla salvata sulla linea... Rovesciata di Ampollini. Occasionissima anche in questa occasione... Se continua a giocare... Tascini... Trovate... Trovate... Giustarini... Tiro! Trovate... Trovate in aria... Trovate... Resiste a un contatto... Trovate conclusione... A girare... Sulla... Azione del Rieti... Conclusione... Parata... Mamma mia... Amici... Mamma mia... Il recupero conclusivo... Direttamente in porta... Esterno della Rieti... Parata... Decisiva... Da parte di... Marenco... Fischia... Fischia... No, in realtà no... Ha fischiato regolarmente Stefano... Fischia... Fischia...